bella oh shit bella raga bella ragazzi buon pomeriggio se intanto non sarete in tanti che mi guardate però se lo state guardando di notte cioè 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 siamo qua mi pare nel quarto quinto episodio proprio una roba del genere della mia serie in single player in minecraft vanilla allora c'eravamo c'eravamo lasciati molto molto più su però però dopo aver mattato un po' di gente sono riuscito ad arrivare qua adesso però dovete aspettare un attimo perché c'è qualcuno che mi chiama dopo ok eccoci e niente continuiamo mi devo fare cosa la cosa anche un'armatura ma sono sicuro che al massimo riuscirò a farmi la chest plate adesso sono sicuro che mi arriverà qualcosa no ma come sono preso allora mettiamo qua il carbone e il ferro un stack di carbone ma ne devo prendere ancora qua ho visto redstone ferro e la pescazzurri la pescazzurri io di volte per questo che mi vedete con la spada il pietra e coso il legno succede qua ho un altro dammi anche il terzo perfetto ci facciamo un bel piccolo in ferro e voilà ingotto di ferro non ci sposteremo troppo avanti andiamo a prendere il ferro e la roba quindi possiamo lasciare anche qua il ferro che si cuoce non sono sicuro che lo perderò no dai 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 non potiamo sfiga eh guaguara malmazzella basta qua prendiamoci anche questo diamante 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 oh cazzo qua mi sto cagando addosso la lava si si ho il piccone si raga ho il piccone di diamante stupido ferro ok ho il piccone di diamante però come voi sapete a me serve un dungeon anzi più che un dungeon una cazzo di sella una cazzo di sella cioè che poi alla fine non posso neanche cittarmela cioè cioè alla fine cioè a meno che non trovo un villager cioè non me la posso cittar mamma mia la sfiga di oggi nanananananana nanananana nanananana allora per non rischiare farei anche una piccola cesta sapete com'è ho due diamanti se cado e muoio mi metto a riporconare l'aramaico anche se non l'ho mai fatto perchè uno non conosco l'aramaico due sono crisi se se eh ok iniziamo a prendere con la prima cosa questa redstone bastarda perchè non si può mettere qua no mi deve far nuotare in oh no bravo stupida stupida cambiamo anche qua adesso mi cade la lava in testa ehm stupida 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 mamma intelligente allora intanto prendiamo questa cosa prendiamo questa cosa se giochiamo in minecraft vanilla la redstone è più che fondamentale ok se senza redstone non puoi fare neanche un pistone per dirvi che è una roba nonché tanto importante se dopo puoi fare varie cose è importante ma non puoi farmi dire scusate sono i miei sono i miei cambiamenti emotivi qua c'è l'appi rompicazzoli che è cambiata anche la texture dei lapiscazzi perché una volta erano rompicazzi quindi lì oh si però non servono a niente alla fine boh no ho porre che cazzo la lava stupido va bene giù là ce n'è uno ma amene qua c'è del ferro che non so bene della lava quindi ho intenzione di sostenermi qua oh che culo e vaffanculo ok mamma mia stupida lava di merda ok però qua io non vedo niente never in thousand stupido tedesco il primo è che io so masticare l'inglese che me fra due giorni parto per l'inghilterra e sto via cosa quattro giorni non ci saranno video non so che siete in pochi che mi seguite neanche quattro persone perché non sono neanche quattro iscritti vabbè poi mi mancano solo 999 iscritti per arrivare a a mille quindi vabbè sarà un giorno due però vabbè io non ci sarò non caricherò video mi dispiace oh shit you mother fuck ecco lo sapevo lo lo sapevo scappa scappa picchialo picchialo ma se mi fai cadere nella vatti picchia si picca con il martello fleumatico la prossima mi sono cagliato dosso eccolo qua secca eccolo ok prendiamo armi e bagagli c'è anche il flur e poi risaliremo alla vecchia e rompio quello in maniera in certo quanto siamo siamo già a 7 minuti siamo siamo già a 7 minuti cazzeggio time ragazzi questi episodi sono un po' noiosi perché sono di cazzeggio però vabbè dai dal prossimo faremo la casa o qualcosa del genere ok dopo ci abbiamo tempo e ve la faccio vedere come l'ho fatta in un mondo in creativo ho fatto anche un'altra roba ma non la farò in questo modo perché fa abbastanza cagare ok o prima leviamo il carbone che scherzi sperando che non mi cada il mondo sopra andiamo santo dio mi sto cagando addosso ho paura che mi cada qualcosa sopra fammi salì sì non so perché si vede ancora così bene cioè una volta non vedevo niente se era buio tipo mi servivano mezzo chi mezzo dottina di di toro cioè adesso cioè è tutto più tutto più facile speriamo di salire in fretta perché perché di sì siamo già sette di esperienza cioè adesso non dico che sono tanti perché non sono tanti cioè c'è surdia che adesso ne fa ottocento ogni dieci minuti e io sono ancora qua a farne una cosa vabbè e quindi niente anzi proprio da trovare delle canne da ducre devo fare anche una farm e che palle quando è che finisce sta roba posso neanche vedere a che altezza siamo intanto è finita la musica non si sa perché ok saliamo comunque nel corso della della serie una sella sono sicuro che la troverò sono sicuro che non me la fa ma che la troverò siccome è notte siamo anche attaccati a casa per for for mi che scacchi che magari non eravamo neanche eravamo magari anche in un coso dove non potevamo vedere la nostra torricina fatta di terra di fango e merda la situazione del capo un bastone uuuh 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 tre diamanti si tre diamanti tre diamanti poi cos'è che abbiamo carbone e dai oro ferro lapiscazio che sono 16 di pietra insomma va bene aggiunti a 22 mi direi di mettere giù anche tutta sta roba e poi ehm 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 allora prendiamoci le torce la vornace e questo e li posizioniamo qua e poi vi faccio vedere la casa che ho fatto che è in creativa sarebbe spoilerare però va bene allora salvo il terreno gioco siamo a 11 minuti la faccio solo vedere così di un'invelocità ed ecco no non è questa ed eccola qua questa è un'altra costruzione che ho fatto mastodontica ma che in realtà non mi serve a niente lo dico perché è vero allora ehm intanto dopo sarà da dire dove dovremo mettere 4 entrate per ogni casa ecco questa sarebbe la casa poi prossimamente farò una roba sotto sopra c'è una casezzuola tipo così poi qua tipo sarebbe cose per uscire forse un secondo bianu ma non biendo e niente mi piacciono un sacco le scale a chiocciola devo dire e ecco questa sarebbe la casa che voglio intenzione di fare però sono sicuro che così proprio non ce la farò a farla perché è una casa complicata ci vuole tanto legno e io ho usato questo è il tipo di legno questo toglievo vabbè ma fondamentalmente questo non era il legno che useremo perché questo era il legno neutro e dopo cambieremo legno naturalmente quindi ci salutiamo ciao ragazzi alla prossima ciao ragazzi